Siamo di fronte a una tempesta che sta per cambiare profondamente il modo di agire e di strutturarsi degli enti del terzo settore. Per questo, sia come obbligo statutario, sia per vocazione, vogliamo agevolare e informare la cittadinanza, aiutando soprattutto chi rimane più indietro. Aperto così la conferenza stampa, il presidente della Fondazione Carifano, Giorgio Gragnola, che insieme a Marco Lucchetti, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesero Urbino, ha annunciato il convegno che si terrà martedì 9 maggio nella sede di Via Montevecchio e intitolato Le Novità del Registro Unico Enti del Terzo Settore e le Conseguenze Operative per gli Enti No Profit. Dopo la registrazione di partecipanti, l'incontro avrà inizio alle 17.30. Ma, dicevo, siamo veramente in mezzo a una vera e propria tempesta, perché non solo c'è il codice del terzo settore che ha novellato tutta una serie di normative, di adempimenti, e c'è anche una importantissima sentenza della Corte di Cassazione, la 131 del 2020, che in base anche alle interpretazioni che sono uscite, da e mette il terzo settore in una luce completamente nuova e completamente diversa. è un ambito importantissimo e noi con questi nostri incontri vogliamo aiutare, supportare e accompagnare gli enti del nostro territorio, soprattutto quelli piccoli, piccolissimi, per far comprendere anche che non ci sono soltanto adempimenti, non ci sono soltanto appesantimenti burocratici, ma ci sono anche tante opportunità. Per coglierle al meglio, ha proseguito Gragnola, occorre conoscere bene i riferimenti normativi, ma anche i soggetti che possono aiutarli in questo percorso, come il Centro Servizi del Volontariato, che è partner della Fondazione in diverse iniziative. L'ingresso al convegno è libero? L'ingresso al convegno è libero, è gratuito e possono anche partecipare i colleghi dottori commercialisti, perché c'è il patrocinio anche dell'ordine locale dei dottori commercialisti, c'è un sito apposito che consente l'iscrizione automatica e tra l'altro ai colleghi verranno riconosciuti i crediti formativi. Penso che sia un'iniziativa importante anche a favore dei giovani colleghi che su questo ambito potranno costruire la loro professione. Durante il convegno si parlerà anche di contabilità fiscale degli enti non commerciali, dell'inquadramento normativo per la rendicontazione del 5 per 1000 e delle prospettive che seguono l'iscrizione sul registro per le Ollus, ATS, associazioni di volontariato, imprese sociali ed enti religiosi riguardanti l'attività dell'ente, bandi e raccolte fondi. All'incontro interverrà anche Franco Colombo, dottore commercialista, revisore legale, esperto del Sole 24 Ore. Lucchetti, quali sono le novità del registro unico? Il registro unico è una novità perché non era normato, non era previsto, quindi l'iscrizione degli enti del terzo settore al registro unico è la novità fondamentale perché permetterà di innanzitutto identificare e censire gli enti del terzo settore che poi beneficeranno di agevolazioni fiscali che già ne beneficiavano, ma adesso ci sarà una regolamentazione specifica per poterne usufruire. Dunque c'è una regolamentazione ben precisa? Sì, oltre all'iscrizione a Runt, per gli enti che dovranno beneficiare di queste agevolazioni, ci sarà anche il deposito di bilancio obbligatorio, secondo uno schema prestabilito dalla legge, per cui chiaramente sarà non semplice inizialmente per gli enti del terzo settore, soprattutto quelli minori, adeguarsi a questa normativa. Per questo abbiamo appoggiato l'iniziativa della Fondazione che già è più volte che organizza questi eventi per portare l'informativa a tutti gli enti del terzo settore. Noi come categoria ci rendiamo disponibili a collaborare su questa iniziativa. Grazie a tutti.